ma tutti ragazzi siamo quella perché oggi siamo con alepro 10 marco 18 e stiamo su crash royale niente chiacchiere mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel like raga iniziamo direttamente subito io a ghettano dai è entrata il nostro canale trovate il ghettano in descrizione no non trovo le descrizioni in ghettano non si trova in descrizione no si fa sto di allora abbiamo vado tutte le carte di merda però una importanza per l'attenzione adesso stai l'accordo di brutto di poter 150 anni non è vero sì sì di poter 150 anni ci ho messo per per fare attivarsi vabbè tranquillo tutta cosa buona queste sono raga cazzichimando la faccina a questo 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 è roba buona non mi sembrava quella lo spacciamo se volete della droga vabbè se volete dei cani gialli attento ci ho distruttato sto deficiente mi attacco tu devi difendere ci difendo io se ho tirato le lecce e ho distrutto pure il cugino oh no la madre pure la madre il cugino tutta la settimana c'era cazzo che ho visto ok è vero di difendere quel dragoncino è il dragoncino cagata c'era ma davvero non sono più cagata sto scherzando cavolo e buona goblin ok ragazzi marco oggi è depresso perché hai esploso il cugino no si è lasciato con lo zitto oh cazzo vero la zitta il cugino non si è lasciato con il cugino no mi sono lasciato con il letto perché sono attivano ti ho mandato pure a cagare il letto voleva pure il letto ti devo andare a cagare a te che tifo tu mi puoi cagare puoi pure a pisciare puoi pure a pisciare e cagare che attento che è non posso fare niente io perché non ho desiderio e manco ho frecce ti devi fare così facci con i cagli cazzo vai che telefono scarico raga no no il mio c'era l'altro Marco mi lascia sta morendo ok è esploso ci penso io e devastiamo tutto ma cosa fai da l'altro lato si 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 confonde non so dove andare vabbè non so così deficienti come mai ma la ricchione vabbè tranquillo io vorrei la torre ce l'ho presa tranquillo si dà no minchia raga scusate mi si scollego e carica batteria si vede tutto buio tutto buio tutto buio accendi la luce ma lei mi si scarica il telefono si si scarica a me pure avete perso male vabbè raga pazienza raga ragazzi aspettate un secondo usato ok raga ora siamo io e marco se volete un fasciacollo bellissimo ho sbagliato di nuovo color merda ho sbagliato di nuovo il dec 120 euro ho di nuovo il dec tutte le cose basse e cose non so non so non so ma non usare come sciarpa ma è sciacollo è come carta igienica anche ma come cappello come cappello un tocco di classe ma di che è sta cosa guarda che è bello guarda che è figo iki alt CHRIS vergogato il problema è che c'è il telefono che mi si sta spegn nog guarda che bel cappello mi sta spegnendo il cellulare molto male 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 guarda che un mio bel cappello mi si è spento il cellulare po floor eh avvi no un cappello Quella 8 e ti dava e si è spento il cellulare Alessio mi si è spento il cellulare Che ci deve fare serena come se Ricchione sotto il sole ma ancora che cos'hai bomba l'olo Bomba l'olo Bomba l'olo T'ho detto l'ho sbagliato Ciao Non ti girare Minchia ti da morire per forza la madre Per forza la madre pubblica Vai su facebook Però avvicinati perchè tu non ti senti a microfono Ciao Ragazzi buongiorno Ciao Io sono l'olo Io dico così Io dico così Io dico così Ciao mi serve il conduttore Chiamo Vittorio C'è con l'egra di fratello 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 E' bravo Buono buono No No questo qui questo qui Cazzo Eh io non posso più Chiudere la zappa non gli posso buttare Tirarci due zapp Ma si può scolare la zappa? No Troppo bella posso Alessio si bloccano No Ti puoi sbloccare Ti puoi specchiare Saluta mamolo Difendi come un cane E noi vinceremo Peggio dell'animale Oh oh difendi Ma non fanno un peggiorno avanti su questo sciroiollo Metto una sola torne Abbiamo vinto col Sì Grazie a me Sexto totale Si sta studiando Vabbè dai Per me questo video può finire qui Un saluto dalle pro 10 E Marco 18 Ciao Aspetta ragazzi Fibbo Oro Gemme Scarica Arcieri Coni La merda più totale Si Leggendario Non è vero